Ciao a tutti da Vittorio, si è appena concluso il sorteggio per l'Europa League, almeno per la Lazio. La Lazio era nel pot 1, quindi fra le squadre più forti dell'Europa League, e c'è stato il sorteggio. Allora, nel pot 1, ovvero nelle squadre più forti, la Lazio giocherà in casa contro Porto e fuori casa contro l'Ajax. Direi che sono due squadre abbordabili per il pot 1. Il Porto mi preoccupa, l'Ajax non sta andando molto bene, per cui dovrebbe essere più facile. Il problema, secondo me, è Real Sociedad in casa, però Real Sociedad in passato ha fatto molto bene e quindi è un avversario pericoloso per la Lazio. Poi c'è il Braga, il Ludo Goretz, la Dinamo Kiev, il Nizza, è anche qui una squadra pericolosa da prestare attenzione, e poi il Tuente. Quindi un sorteggio tutto sommato positivo per la Lazio, però ovviamente poi bisogna scendere in campo e impegnarsi. Certo, ricordiamo che le prime otto si qualificano direttamente e quindi la Lazio deve cercare di chiudere fra le prime otto per andare direttamente all'eliminazione diretta, anziché andare ai play-off. Ovviamente se finisci dal diciassettesimo in poi sei eliminato l'obiettivo da Lazio. Ovviamente cercare di passare il turno, quindi le partite in casa sono Porto, Real Sociedad, Ludo Goretz e Nizza. Direi bene perché sostanzialmente le squadre più forti le affrontiamo in casa, speriamo in uno stadio olimpico grimito, però direi che tutto sommato è un sorteggio positivo. Si potrebbero affrontare il Tottenham e il Manchester United, direi che la Lazio ha avuto un buon sorteggio. Insomma, poi ovviamente con tal campo bisogna vedere con che attenzione la Lazio giocherà queste partite, però direi tutto sommato positivo. Tu che ne dici? Iscrivami e metti qua sotto e noi ci rivediamo domani con un altro video. Ciao ragazzi!